Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti di cuore, perché erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. Beati tutti coloro che si prodigono per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è il vostro premio nei cieli. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i misericordiosi, perché la giustizia anche non solle un'istitica. Grazie a tutti